Micica dice che Renzi potrebbe votare Berlusconi, voi? Io ho sentito di no francamente dalle mie vive orecchie in tutte le cronache di queste ore, però noi certamente potremmo votare Berlusconi, il tema non è se Totti vota Berlusconi, che è evidente che è sì, e se Berlusconi ha altri voti oltre quello di Totti che mi sembra scontato.